Ok, perfetto, di avviare la registrazione, quindi ridò nuovamente il buongiorno a tutti, ben arrivati, ben arrivati a questo secondo incontro con il dottor Leonardo Albertini che salutiamo e ringraziamo per la partecipazione. Questo secondo incontro richiamerà brevemente i principali temi trattati nella sessione precedente del 18 aprile e quindi la reingenerizzazione e il service design, perché sono così importanti, quali sono le opportunità e i benefici di queste nuove procedure. Vi ricordo che siamo disponibili nel rispondere, nel raccogliere tutte le domande e dubbi, quindi ci aspettiamo anche un evento che sia partecipato, perché il nostro fine è quello di fare questo evento proprio per darvi un supporto e un aiuto. Lascio la parola al dottor Bertini e buon webinar a tutti. Quindi buongiorno di nuovo e grazie al Formez e alla Presidenza e Consiglio di Quartimento Funzione Pubblica e all'Agenzia Costituzione Territoriale per questo progetto. Quindi l'altra volta nella lezione precedente abbiamo introdotto che cosa significa fare reingegnerizzazione dei processi e quali sono stati, quali sono i metodi per farlo. Oggi ci concentreremo più sulla parte strumenti, cioè quindi dopo aver visto la strategia dedichiamoci oggi di più alla tattica e quindi al come farlo. Ok? Quindi molto rapidamente l'altra volta ci siamo dedicati a capire perché reingegnerizzare, quindi partendo da un processo di erogazione di un servizio da parte di un comune, di un ente locale per esempio, ai cittadini o alle imprese. Pensiamo uno sportello attività produttive, no? O l'erogazione della carta d'identità a un cittadino. Reingegnerizzare il processo significa ridisegnarlo e poi dopo digitalizzarlo attraverso queste tecniche. Perché? Perché ovviamente abbiamo detto ci serve per razionalizzare i tempi e quindi abbattere i costi di processo e ci serve per cercare di automatizzare questi processi anche attraverso l'uso di robot, no? Di bot, ok? Questo significa anche semplificare, quindi ridurre gli oneri per i cittadini e per le imprese, ma soprattutto riuscire a introdurre finalmente dei concetti di esperienza utente, cioè utilizzare un servizio digitale che deve essere intuitivo e facile, ok? Da usare. Cosa che oggi non sempre è così, no? Quindi il cittadino si trova davanti a un servizio online e si impicca perché magari deve cominciare a chiedere informazioni a se esistono dei centri di assistenza o a chiamare dei servizi di supporto e non rispondono, no? Eccetera. Quindi è fondamentale disegnare subito dei servizi che siano facili e intuitivi. Questo si chiama CX, no? Citizen Experience, l'esperienza del cittadino. Standardizzare un servizio significa poterlo poi riusare con altre amministrazioni, renderlo interoperabile, cioè far dialogare le banche dati delle amministrazioni, renderlo trasparente e soprattutto anche misurabile, ok? Quindi sono molti i vantaggi del ridisegno dei processi e della loro digitalizzazione. L'altra volta abbiamo detto che cos'è appunto, dicevamo, l'automazione, l'introduzione di robot, di bot nei processi digitalizzati. Abbiamo detto quali sono le cornici di riferimento a livello teorico, quindi il COBIT, l'ITIL, il LIN-SIX, il BPMN, tutti, diciamo, framework, cioè cornici di riferimento per approcciare queste tematiche. Dopodiché abbiamo citato un caso d'uso molto interessante che è quello, il manuale proprio dell'ONU e dell'Unione Europea per fare la reingegnerizzazione dei processi in ambito governativo e poi siamo entrati a parlare di service design. Service design, questa parolaccia inglese, che fondamentalmente è un approccio che serve appunto a ridisegnare i servizi, dividendo fondamentalmente in due parti il servizio. quello in cui ci si confronta con il cittadino e con le imprese, quindi il front office, cioè lo sportello, diciamo così, e quello invece dietro le quinte, diremmo, no? Quindi dove c'è la macchina con noi colleghi, no? Quindi dipendenti pubblici e pedaliamo per far funzionare le cose. Ora, il service design è un approccio che abbiamo dettagliato come lo fa uno dei casi d'uso più di eccellenza a livello internazionale, una regione del Canada, ma il service design fondamentalmente è un approccio che punta molto sulla prototipizzazione, cioè disegniamo dei prototipi e vediamo se volano un po' come le macchine di Leonardo da Vinci e poi a forza di reiterare questi test e prototipizzazione, dopo arrivare alla messa a terra di servizi ingegnerizzati e poi digitalizzati. Per fare questo approccio c'è un metodo a doppio diamante, l'abbiamo detto l'altra volta, che parte da una fase di scoperta e di apertura anche mentale, a poi dopo una fase di chiusura, di sintesi, no? Quindi abbiamo detto service design e al cui interno c'è il design thinking. Ok, a questo punto vediamo qual è la cassetta degli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, cioè quali sono gli strumenti che si possono usare per fare tutto ciò. Vado sempre molto rapidamente per concentrarci poi dopo su il principale strumento, che è un po' il tema di oggi, che la trovate già qui dentro e si chiama service blueprint e poi dopo lo dettaglieremo per bene, con calma. Intanto prego i colleghi di Fast, se arrivano domande in chat, di fermarmi e anche i colleghi che stanno seguendo. Assolutamente sì, vi ricordiamo che qualsiasi domanda la potete fare nel box appunto dedicato chat. Grazie Leonardo. Sì sì. Allora, innanzitutto il viaggio dell'utente, user journey, viaggio dell'utente. Il viaggio dell'utente è una, diciamo, mappatura di quello che fa il cittadino quando vuole usare un servizio del comune, no? Quindi innanzitutto dovrà, la prima cosa è, si sveglia, diciamo c'è una fase di risveglio in cui lui dice, oddio mi sta scadendo la carta d'identità, no? Ok? Quindi proprio, facciamo un esempio classico. Quindi lui, cioè, definisce e acquista consapevolezza di un bisogno. Dopodiché deve scegliere, deve decidere come andare a soddisfare questo bisogno. Ora, ho fatto la carta d'identità, oddio mi sta scadendo la carta d'identità, quindi c'è solo un erogatore del servizio, cioè il comune, ma se lui dovesse dire, oddio, devo scrivere bambini a scuola o all'asilo, o magari in una città grande ci sono tanti asili e tante scuole, quindi deve anche scegliere l'ente erogatore, no? Quindi quale scuola andrà. Quindi, dopodiché, lì attiva un'azione, no? Attiva un'azione, quindi magari va sul sito del comune, sceglie la scuola, fa la domanda, e poi dopo c'è una sorta di fidelizzazione, cioè la scuola tenta di fare in modo che il cittadino riscriva il figlio anche gli anni successivi, no? Ok, questa rappresentazione del viaggio dell'utente all'interno dei servizi del comune viene descritta come un tunnel, diciamo, dell'acquisto nel settore dell'e-commerce, no? Degli acquisti online, però nel settore della pubblica amministrazione è molto simile l'approccio, no? Quindi noi andiamo a identificare quali sono i momenti in cui questo viaggio funziona, quindi i momenti magici, diciamo, quelli in cui funziona molto bene, e i momenti in cui il nostro cittadino va nel pallone, si perde, va in panico, no? E si chiamano pain point. Ok, quindi questo serve per disegnare questo. Il diario dell'utente è, come dice la parola, molto semplice, si segue l'utente, si cerca di capire con dei focus group come fruisce dei servizi del comune o dell'ente locale. Idem il Safari, il service Safari, si cerca di capire, mappando tutte le fasi in cui il cittadino fruisce dei servizi, come li usa. Uno di questi, diciamo, strumenti è proprio fare l'ombra dell'utente, no? Lo user shadowing, cioè noi come designer del servizio seguiamo l'utente da quando esce da casa proprio e va in comune a richiedere, per esempio, la carta d'identità. In questa maniera noi riusciamo anche attraverso i device, telefonino, no? Oppure un diario dove ci appuntiamo le cose, a vedere tutta una serie di criticità, di momenti di panico, tra virgolette, no? Come abbiamo detto prima. Ad esempio, se le strutture dell'immobile del comune non sono accessibili, oppure se arrivi allo sportello e non c'è nessuno, oppure se il cittadino non aveva guardato gli orari e si accorge arrivato lì che lo sportello è chiuso e via dicendo, no? Quindi, un altro strumento molto utile per disegnare i servizi, ingegnerizzarli e poi abbiamo detto digitalizzarli, cioè favorire la transizione amministrativa e la transizione digitale, è l'utilizzo di persone, diciamo, che vengono chiamate di metapersoni, metautenti, cioè degli utenti che più o meno rappresentano il mio cittadino medio, il cittadino medio che usa quel tipo di servizio e quindi questo, diciamo, questo metautente supporta in qualche modo i designer, chi deve disegnare il servizio, a immaginare proprio quello che l'utente poi dopo fa o gli succede. L'esempio della figurina qui accanto è emblematico, qui c'è una ragazza che è un'insegnante, quindi fa un profilo anche dell'utente, dice dove abita, è una persona, una pendolare che va insieme giù e si parla di servizi di trasporto, in questo caso, di servizi di trasporto diciamo di un posto statunitense e quindi va a mappare per esempio la capacità di questa Lisa di usare l'app per il telefonino perché se non la sa usare, per esempio già i canali online per comunicare delle informazioni bisogna stare attenti a usarli perché se abbiamo un target di utenti molto anziani, per esempio, che non sanno usare il telefonino, lo smartphone, già per noi è un'indicazione come designer, non possiamo usare la multicanalità oppure se siamo in una zona di montagna o linare dove non c'è internet anche questo è un'altra barriera, cioè non possiamo disegnare dei servizi digitali per comunicarli via web application o con lo smartphone perché magari non c'è internet e quindi è difficile che possiamo, che diventi efficace per esempio la comunicazione in tempo reale degli orari dell'autobus o dei ritardi dell'autobus perché se internet non c'è è capace che quel cittadino gli orari li riceve quando torna a casa e si connetta alla wifi, quindi non c'ha senso, no? Ecco, quindi il meta utente è molto utile come strumento per disegnare i processi. Poi ovviamente il brainstorming cioè ci si mette intorno a un tavolo e si lascia libera l'immaginazione per disegnare i nuovi servizi questo è un approccio che è valido per gruppi di lavoro non maggiori di 12 persone e per non più di un'ora perché sennò poi diventa troppo dispersivo. Eccoci alla service blueprint poi la guarderemo meglio però intanto vi do una definizione teorica quindi la service blueprint è un po' quello che ci siamo detti fino ad ora cioè mappa il percorso del cittadino o dell'impresa cioè dell'utente quando va a chiedere un servizio al comune, no? All'ente locale e lo mappa sia sui diciamo punti di contatto fisici cioè per esempio lo sportello del comune dove c'è l'impiegato, no? sia lo va a mappare nei punti di contatto digitali cioè il sito del comune o in caso di multi, di omnicanalità l'uso dello smartphone l'uso del pc, il tablet e via dicendo o un totem se c'è un totem all'interno della sala comunale perché magari in quei giorni non ci sono i dipendenti gli uffici sono chiusi però c'è un totem informatico dove il cittadino può andare a interagire, no? Quindi nella parte superiore quella in blu il service blueprint va a mappare i momenti in cui il cittadino interagisce con l'amministrazione la parte di sotto quella in grigio mappa invece quello che c'è dietro le quinte cioè l'interazione tra i vari uffici quindi quando arriva un input dal cittadino che gli serve l'iscrizione dei bambini all'asilo gli uffici ovviamente si palleggiano la pratica fino a che esce un output che è la comunicazione delle graduatorie per l'iscrizione agli asili o del fatto se uno rientra o meno nell'ISEE, no? Ok Qui su questa ci sono domande? No Io se volete intervenire alzare la mano eccetera perché non vedo interazioni non so se mi seguite se sono noioso se sono divertente se vi piace l'argomento devo andare più veloce mi date un feedback? No non c'ho feedback va bene allora vado avanti questo è un altro esempio sempre di di service blueprint in cui è ancora più chiaro anche dai colori diciamo il momento di ingaggio del cittadino utente con il comune con l'ente locale e le azioni chiamate di back office no? Cioè tutto quello che sta dietro il sipario ok? Il fatto di fare dei prototipi e dei servizi digitali che mettiamo a disposizione dei cittadini è fondamentale è fondamentale proprio nell'approccio del service design che abbiamo definito prima e non è che ci inventiamo la scoperta della quadra nel senso che è dai tempi di Leonardo da Vinci che si fanno i prototipi e e quindi questo approccio esperienziale è fondamentale è fondamentale utilizzare il prototipo per testarlo proprio anche con panel di cittadini per vedere dove ci sono criticità errori raccogliere i feedback no? ma anche per comunicare agli stakeholder cioè alle persone di riferimento sia all'interno del comune ad esempio gli assessori i vertici politici sia anche con i cittadini o con le imprese i vantaggi e i benefici di questo nuovo servizio che si sta mettendo a terra un altro strumento molto utile che per esempio può essere associato ai momenti di discussione di creazione di idee come il brainstorming che abbiamo scelato prima sono i modelli canvas i modelli canvas nascono diciamo nel settore delle delle imprese delle startup per strutturare appunto abbiamo detto una fase creativa però è ovvio che le utilizziamo moltissimo nel settore pubblico perché servono proprio anche a visualizzare utilizzando dei pannelli delle diciamo dei post-it a appiccicare idee proposte su un processo che stiamo disegnando e poi magari a spostarlo e diciamo condividere insieme il disegno i casi d'uso le criticità di questo processo che stiamo visualizzando insieme per esempio a un target di utenti quindi è molto molto diffuso tendenzialmente è composto da sette nove blocchi e quindi aiuta proprio la struttura blocchi aiuta i partecipanti a dividere e visualizzare le proposte questo è il classicone è il modello canvas classico proprio quindi in un blocco si mettono i partner fondamentali di questo progetto che stiamo realizzando che possono essere altri uffici del comune possono essere altre per esempio una municipalizzata possono essere le aziende di informatica che collaborano col comune per esempio le in house locali poi si mettono le attività chiave le risorse chiave qual è il valore aggiunto di questo progetto che stiamo ridisegnando le relazioni con i con i cittadini i canali che si usano per comunicare con i cittadini per esempio il telefonino lo smartphone ovvio dicendo i costi e i ricavi ma i modelli canvas ce ne possono essere tanti diversi da qui ve l'ho messo un altro che è divertente che è un modello di empatia questo serve per fare emergere nei rapporti con i cittadini quali sono rispetto agli obiettivi i goal di questo servizio che sto andando a ridisegnare e digitalizzare gli elementi per entrare in empatia con l'utente con i problemi dell'utente con per esempio persone che hanno delle diversità oppure con persone che abitano in zone montuose e diversamente molto difficili da raggiungere o che trovano difficoltà a raggiungere il comune eccetera quindi i modelli canvas questo per dire che si possono usare anche per rilevare elementi di empatia con gli utenti altro strumento sono i design scenario i design scenario sono proprio dei disegnini per far emergere da un lato la mappa degli attori quindi le meta persone per esempio abbiamo definito prima e dall'altro tutte le attività che si possono andare a fare per un determinato servizio per esempio qua io ho fatto uno scenario per disegnare una classe virtuale per il ministero dell'istruzione quindi l'idea era di immaginare delle storie per servizi futuri con delle meta persone e quindi andare a immaginare cosa questa classe virtuale poteva che si associava e andava in parallelo alla classe fisica dove stanno i bambini che servizi poteva andare a erogare ai genitori per esempio o ai bambini stessi o ai maestri in più rispetto a una classe tradizionale quindi per esempio la banca del tempo attraverso la quale i genitori si scambiavano ore di tempo e quindi se qualcuno voleva andare a prendere i bambini dell'altro attraverso questa classe virtuale si poteva fare per dirvene per farvi un esempio quindi sono venuto fuori attraverso un brainstorming tutta una serie di idee con dei colleghi e con degli insegnanti tutta una serie di idee e con dei genitori delle classi dei bambini tutta una serie di idee da inserire poi questo progetto di classe virtuale e per rappresentarle queste idee si usano dei sistemi per disegnarli uno dei sistemi per disegnarli più divertenti ora non ci abbiamo tempo di vedere questo video però ve lo lascio quindi se volete e ci avete voglia ve lo andate a vedere da soli uno dei sistemi più divertenti è AppHouse che diciamo cita un po' il Bauhaus tedesco che è una soluzione messa a terra da SAP però è una soluzione open source riusabile quindi non si paga e che proprio consiste nel disegnare dei fumetti con dei piccoli personaggi per simulare proprio lo sviluppo di dell'interazione dei cittadini su un processo da digitalizzare ok un altro sistema molto divertente che la butta proprio sul gioco ma non è un gioco fine a se stesso è un gioco che si usa per sempre disegnare i processi e poi dopo digitalizzarli è stato messo in piedi dalla Lego sì sì la Lego quella che usano i nostri figli per giocare no? quindi mattoncini e questo metodo è stato raccontato poi in un libro che si chiama proprio il metodo Lego Serious Play cioè gioco serio ok? che nasce per il business però per business si intende l'erogazione di servizi anche nella pubblica amministrazione quindi sì si usano i mattoncini Lego proprio per costruire dei personaggi e delle situazioni per esempio la scuola con i bambini i maestri i genitori il camion della della mensa scolastica no? e facilitare all'interno di un gruppo di lavoro il pensiero creativo per ridisegnare un processo e poi digitalizzarlo qui avevo preparato un caso d'uso molto divertente poi se ci abbiamo tempo alla fine ci torniamo che è legato a come si fa il passaporto come sapete solo di recente il nostro governo e il governo italiano ha attivato un interessantissima sperimentazione ancora a livello sperimentale per ingegnerizzare e digitalizzare completamente la richiesta di passaporto attraverso il ministero dell'interno e è un progetto pilota ripeto fighissimo molto interessante che speriamo risolva un problema annoso perché come sa chiunque ha richiesto di recente negli ultimi anni il passaporto la procedura di rilascio può richiedere anche in alcuni casi mesi se non oltre l'anno e quindi questo può mettere in difficoltà chi ha necessità di spostamenti insomma su questa prima parte abbiamo delle domande ci sono di nuovo qua io sollecito la la nostra platea e anche i colleghi di fast a darmi un cenno di di riscontro non so se ok io procedo service design a livello internazionale mi ero riservato questa parte della dell'incontro per darvi una fotografia sempre anche in questo caso molto rapida perché poi chi vuole approfondire le slide sono comprendono una bibliografia in fondo quindi trovate tutti i riferimenti e nelle slide ci sono anche i siti dove si può andare a prendere a prendere degli spunti e delle informazioni ulteriori quindi mio obiettivo è darvi una fotografia degli elementi base di reingegnerizzazione dei processi e di design e poi di design digitale quindi ripetiamo di nuovo per passare dalla diciamo da una transizione amministrativa a una transizione digitale ok quindi l'obiettivo è dare una foto non entrare troppo nei dettagli comunque elemento molto interessante ovviamente gli Stati Uniti sono avanguardisti rispetto a questo e è interessante vedere sempre quello che si fa nel mondo anglosassone e sono stati individuati una serie di erogatori di servizi ad alto impatto per i cittadini che fondamentalmente sono agenzie di stati e ministeri per capirci come se in Italia fosse non so Pago PA per esempio che erogano questi servizi e il governo statunitense ha inserito proprio come obiettivo a livello governativo e poi a cascata a tutte le amministrazioni l'obiettivo di migliorare i rapporti con il cittadino attraverso il miglioramento dell'esperienza utente quella che abbiamo definito citizen experience quindi l'esperienza utente nella fruizione dei servizi digitali che abbiamo detto devono essere facili intuitivi in tutti i dipartimenti federali nelle agenzie di stato quelle che in Italia chiameremo le aziende pubbliche le in house e anche negli enti locali e l'obiettivo era è stato quello di auto assegnarsi una revisione un ridisegno di due servizi ad alto impatto per i cittadini ogni anno per ognuna delle agenzie impattate e delle agenzie interessate e questo ovviamente come vi potete immaginare anche se sembra un obiettivo piccolo perché due servizi all'anno potrebbe sembrare un obiettivo piccolo però comunque nel giro dei dieci anni porta a 20 servizi reingegnerizzati e digitalizzati per ogni amministrazione e quindi praticamente in dieci anni sono andati a reingegnerizzare e digitalizzare praticamente quasi tutti i servizi erogati ai cittadini e quindi questo è un esempio molto interessante che l'altra volta abbiamo già trovato nella lezione del 18 aprile quando vi ho fatto l'esempio del ridisegno dei processi delle farmacie negli ospedali come sapete gli ospedali negli Stati Uniti sono privati però ci sono alcuni ospedali pubblici e in quel caso negli ospedali pubblici sono stati ridisegnati i processi delle farmacie quindi sia dato del cittadino che va a prendere il farmaco con la prescrizione del medico sia invece quello che c'è dietro le quinte tutta la richiesta della logistica del farmaco che arriva dalle farmaceutiche arriva nei magazzini degli ospedali pubblici e poi viene erogato ai cittadini attraverso appunto le farmacie che nel nostro caso potrebbero essere un po' giusto per fare un esempio le farmacie comunali no? qualora ci fossero dei farmaci pubblici no? che ok o dei servizi anche da erogare ai cittadini altro esempio invece che secondo me è è ancora più divertente è quello del Regno Unito ora nel Regno Unito hanno fatto una cosa che per me è fichissima che si chiama è un sito che è stato lanciato nel 2018 quindi ormai c'è già qualche anno e si chiama con una si chiama gov.uk cioè governo punto Regno Unito e associato ad un'iniziativa che si chiama passo dopo passo step by step che cosa fa questa iniziativa? questa iniziativa cioè parte dalle principali richieste dei cittadini su questo sito e individua 18 servizi prioritari per i cittadini del Regno Unito per esempio ora me ne faccio uno a me ha colpito la richiesta della patente ok quindi tra i 18 servizi con con maggiore richiesta su questo sito i il Regno Unito li ha presi e con un team di disegnatori di designer ha disegnato la procedura facendo test di usabilità migliorando continuamente con dei prototipi come dicevamo prima la prototipizzazione ha creato praticamente un processo che orchestrato cioè facendo parlare i database di tutte le PA coinvolte su quel processo lì per esempio la richiesta della patente rende il viaggio dell'utente che abbiamo citato prima dall'inizio alla fine fruibile su questo sito qua su welcome su gov.uk faccio l'esempio della patente quindi il cittadino entra su questo portale con la necessità magari è un 18enne e un giorno vuole la patente quindi fa il diciamo accede al processo di richiesta della patente ci sono tutte le informazioni dopodiché c'è la procedura per chiedere la patente provvisoria può chiedere le lezioni di guida e iscriversi direttamente sulla stessa procedura alla teoria all'esame di teoria dopodiché con questa procedura accedendo sempre su questo sito riceve le risposte no? le risposte su come è andato il test cioè sui risultati poi da qui si può iscrivere direttamente alla pratica cioè all'esame di pratica e e poi una volta che ha passato l'esame attraverso la stessa procedura gli viene detto come andare a ritirare la patente e dover ritirarla o gli viene spedita a casa quindi cioè voi mi capite che è una è un processo che dall'inizio alla fine si sviluppa su uno stesso portale dove il cittadino sullo stesso portale può chiedere tutto tutte le informazioni all'amministrazione ma non solo può iscriversi alle e può prenotare già con i calendari alle prove di teoria e alle prove di pratica quindi su questo sistema il cittadino trova tutte le risposte non solo a livello normativo teorico ma anche alle risposte come mi scrivo quando avrò l'esame come mi posso preparare si fa si scarica i test a crocette dove mi posso dove poi dopo prenderò la patente e quindi che la mandano a casa è una cosa come vi potete immaginare a cui tendere cioè come idea dovrebbe essere così è questa per visualizzarvi cosa si intende quando uno fa service design ok ci sono domande io non le vedo le domande no Leonardo ti confermo che non ci sono al momento domande va bene vado avanti allora vado avanti qui non mi fermo è solo per dirvi che tutto quello che vi sto raccontando è in un quadro di interoperabilità organizzativa così si chiama che rientra in un quadro europeo ok quindi non mi sto raccontando delle cose scisse diciamo da qualsiasi quadro ok a livello sempre europeo l'erogazione di servizi digitali è mappata attraverso degli indicatori come sapete bene si chiamano DESI sono gli indicatori di digitalizzazione delle società e l'Italia purtroppo anche se negli ultimi anni un pochino è risalita però l'Italia purtroppo è tra gli ultimi posti a livello europeo perché abbiamo solo il 67% di servizi erogati digitalmente ma soprattutto il dato fondamentale è che soltanto un terzo dei cittadini circa richiede servizi online perché tutti ancora vanno fisicamente presso gli enti locali in tutto questo diciamo quadro una iniziativa e qui è il punto un po' di atterraggio della lezione di di questo incontro non della lezione scusate di questo incontro di questo webinar di oggi è il l'iniziativa e il portale che c'è ovviamente associato a questa iniziativa un portale che si chiama designers italia ora è una figata ok quindi io sono veramente orgoglioso come italiano che il governo italiano abbia messo a terra e abbia sviluppato una iniziativa di questo genere il dipartimento per la trasformazione digitale quindi la presidenza del consiglio ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una nel corso degli ultimi cinque anni diciamo indicativamente una serie di ontologie di quadri di riferimento di strumenti come quelli che abbiamo visto anche prima che vi ho raccontato prima a livello teorico di flussi e di schermate per disegnare i processi e digitalizzarli praticamente un vero e proprio kit di design che non è un kit solo per i designer cioè gli esperti di questo diciamo di di re-ingegnerizzazione dei processi ma è un kit di design per tutti perché è spiegato in maniera veramente molto semplice e molto ben fatto che quindi contiene sia delle linee guida teoriche ma sia anche degli strumenti diciamo pratici ok quindi io vi suggerisco se dovete fare questo approccio di transizione amministrativa e poi e poi transizione digitale del vostro comune di farvi un giro su designers italia e andare a a vedere questa documentazione e questi modelli quindi il il diciamo adesso vi faccio vedere e commentiamo insieme due strumenti interessanti il primo è un diagramma di flusso quindi come si fa diciamo come si disegna un un servizio prima di andarlo poi a digitalizzare perché il rischio è che se io vado a digitalizzare un servizio come oggi il rischio è quello di digitalizzare la burocrazia ok quindi anche magari di rendere paradossalmente più veloci degli errori no perché vado a informatizzare un un flusso o un processo che magari è sbagliato è ridondante e io non faccio altro che andare a rendere più veloce eh una cosa che non è efficiente no quindi la prima cosa che devo fare abbiamo detto nella scorso nel scorso webinar e anche nella parte introductiva di questo che devo andare a mappare devo andare a disegnare il processo quindi come si fa diagramma di flusso immaginiamo che non so se riuscite a vedere bene ve lo ingrandisco mi ingrandisco la slide eh l'iscrizione eh dei bambini a alla materna ok eh classico servizio da di amministrazione comunale quindi eh immaginiamo che l'utente eh accede al sito eh del comune io do per scontato che ci sia un sito del comune eh con delle informazioni su eh sulle scuole no? sulle materne volevo ti interrompo soltanto un attimo per nemmeno anche tempo di riprendere fiato Leonardo e per sapere se è tutto chiaro eh se ci sono domande noi siamo a disposizione eh per qualsiasi magari integrazione di informazione o dubbi siamo siamo disponibili in chat per riportarle poi alla dottor Bertini grazie non vedo non vedo domande per il momento benissimo quindi tendenzialmente quando non abbiamo domande le cose sono due o il il docente che spiega è assolutamente inefficiente e quindi non si fa comprendere oppure i temi magari non sono troppo di interesse per la platea non so quale dei due possa essere meglio perché eh i temi sono assolutamente di interesse attuale quindi speriamo insomma di di centrare l'obiettivo quindi quindi probabilmente è il docente che non è efficiente quindi assolutamente sarei più contento di di questa di questa cosa perché vuol dire che i temi sono sono di interesse per i nostri colleghi degli enti locali insomma qualsiasi domanda non vi non vi eh non vi preoccupate anche se è semplicemente diciamo una richiesta di un dettaglio tutte le domande sono ben accette qualsiasi dubbio eh è assolutamente ben ben accetto anche banali curiosità sì magari come dire eh un'esperienza avuta e uno scambio appunto di opinioni anche tra tra colleghi eh è come se fosse una chiacchierata ecco non non siamo in cattedra a insegnarvi ecco è proprio per darvi per darvi un supporto un aiuto per esservi utili qui il dottor Bertini è proprio sta proprio qui per aiutarvi ecco no poi tra l'altro eh io sono anche su LinkedIn se qualcuno si vergogna tra virgolette a far domande in pubblico mi potrete anche cercare ovviamente poi io le le condivido con Formez e però sono sono anche mi trovate insomma sui social sì bene allora vado avanti prego eh quindi il 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 cittadino va sul sito del comune e cerca informazioni su come iscrivere il figlio a alla materna magari ci possano essere dei comuni piccoli con una materna sola o eh degli delle comunità montane dove addirittura più comuni hanno una materna insieme o viceversa dei comuni un po' più grandi in cui ci sono più materne quindi il cittadino vuole anche andare a scegliere no? a quale materna iscrivere eh i bambini quindi eh la prima cosa che fa trova le informazioni sul servizio eh e magari trova anche dei servizi correlati in alcuni casi si può eh può accedere anche alla alla intranet del comune dove magari uno può andare a a iscriversi o a pronotare o eh a fare delle a fruire di servizi aggiuntivi no? E per quello eh si utilizza eh tendenzialmente il servizio di identità digitale che si chiama IIDAS eh attraverso il quale tipo anche Speed no? che aderisce attraverso il quale o la CIE la carta di identità elettronica attraverso il quale il cittadino si logga tra virgolette quindi accede al portale eh del comune e eh autorizza ovviamente il trattamento dei dati e effetto a una serie di operazioni per esempio eh qui è stato monitorato il fatto che vengono inseriti o se il comune già ha eh i dati dell'utente glieli tira fuori in automatico controlla i dati eh generali propri dei propri eh dei dei propri figli oppure se si tratta di altri tipi di richieste non della scuola può andare a controllare i dati su immobili su veicoli eccetera dopodiché per esempio la pratica può prevedere il pagamento di una somma eh che potrebbe essere effettuata ad esempio tramite Pago.pia quindi il sito eh del comune che ha aderito a Pago.pia eh diciamo fa attivare quella funzionalità lì eh dopodiché il cittadino conferma il repilogo delle informazioni e magari riceve la conferma dal dal sistema che e quell'operazione lì eh è andata ehm è andata a buon fine eh riceve degli allegati dei pdf per esempio e riceve informazioni sia tramite il portale del comune sia tramite magari altri eh altri canali eh per esempio lo smartphone o la mail su quali possono essere i passi successivi infine elemento molto importante abbiamo citato più volte anche la volta scorsa il monitoraggio e il monitoraggio significa anche valutare l'esperienza quindi valutare eh se l'esperienza del il cittadino ha vissuto un'esperienza facile fruibile intuitiva eccetera eccetera si possono attivare qua anche dei servizi correlati oppure è possibile che la richiesta sia soggetta a revisione cioè il cittadino deve aspettare che il comune faccia per esempio la graduatoria in base all'ISE per confermare no? quindi che succede? dopo questa fase di richiesta il il cittadino riceve una notifica attraverso una una mail oppure per esempio accedendo all'app io trova dei messaggi all'interno eccetera di nuovo il cittadino può riaccedere al servizio usando come abbiamo detto l'identità digitale visita la propria area personale e trova lo stato avanzamento della pratica dove per esempio potrebbe dover perfezionare la richiesta quindi lì si vede la graduatoria si vede le preferenze per il servizio potrebbe scegliere dei servizi mensaggiuntivi oppure post scuola anche qui può effettuare un pagamento e infine riceve una una conferma dal sistema ok quindi questo è come si disegna un 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 fusso un diagramma di fusso ora il sito il portale designers italia il cui sito il cui indirizzo è designers punto italia punto it e di nuovo vi suggerisco veramente andarvelo a vedere perché è veramente molto ben fatto e ci mette a disposizione quello di cui abbiamo parlato prima c'è la service blueprint ora anche qua ve la ingrandisco vi ho riportato sotto anche il il link proprio diretto alla serviz che è qua designers italia files lo vedete lì sotto e quindi vi potete andare a a vedere il il dettaglio di questa service blueprint quindi ora questa service blueprint è una service blueprint legata all'utilizzo della pdnd della piattaforma nazionale della piattaforma digitale nazionale per le notifiche digitali ok quindi il procedimento si chiama send come sapete attraverso pagopia è stato messo a disposizione di tutti i comuni che ne vogliono fruire basta fare domanda una piattaforma che gestisce i processi di notifica di atti ai cittadini o alle imprese per esempio una multa no? ok e quindi il servizio di notifica che oggi è cartaceo può essere gestito anche con una piattaforma digitale e qua è disegnato il la service blueprint quindi per rinviare le comunicazioni a valore legale send cioè la piattaforma dà priorità ovviamente ai recapiti digitali dei cittadini cioè la PEC ok oppure altri recapiti di cortesia per esempio la SMS se non è disponibile nessun recapito o il cittadino non accede alle notifiche attraverso send viene inviata ovviamente la raccomandata cartacea in modo tradizionale quindi qui il sistema traccia il cittadino alla PEC sì e quindi c'è una ricezione della PEC e si va a mappare come vi dicevo i punti in cui il cittadino ha una interazione digitale con l'amministrazione quindi ci sono le varie macrofasi del servizio le tempistiche il canale con cui il cittadino va a interagire che può essere abbiamo detto lo smartphone per esempio le fasi di interazione con contatti diretti del cittadino e poi sotto diciamo sotto a questo a questa schermata della quale io vi ho preso solo un pezzo ovviamente non potevo ritagliarvela tutta ci sono anche tutte le interazioni con il dietro le quinte quindi qua trovate vi ripeto lo ripeto di nuovo la rappresentazione la rappresentazione del servizio send come esempio di come si dovrebbe disegnare un servizio per poi dopo digitalizzarlo attraverso il modello delle service blueprint che lo diciamo un'altra un'altra volta è una mappatura e un approccio un metodo per disegnare tutte le interazioni dei cittadini o delle imprese con il comune con l'amministrazione andando a disegnare sia i touch point cioè i momenti punti di incontro fisici per esempio lo sportello no sia i punti di incontro digitali per esempio il sito il portale del comune ok bene per disegnare questa service blueprint designers italia punto it mette a disposizione che cosa anche uno strumento ancora più diciamo di di dettaglio più pratico che è un file excel nel quale proprio si può andare a scrivere a digitare tutte le varie fasi del servizio che vogliamo andare a a mappare per esempio torniamo all'esempio più semplice di prima l'iscrizione di un bambino alla materna ok quindi su questo sito questo link che vi ho riportato sotto https designers punto italia punto it slash risorse per progettare lì sotto basta che ci cliccate nel powerpoint che i colleghi le colleghe di fast vi mettono a disposizione voi atterrate proprio su questo file excel che vi ripeto è proprio lo strumento per disegnare la service blueprint quindi vi si apre il file excel e dentro le caselline ci andate proprio a scrivere tutte le varie fasi che volete mappare per esempio sia le fasi di qui lo chiama front stage cioè quelle che abbiamo detto sono i momenti in cui il cittadino arriva in comune e vuole parlare con noi quindi il cittadino arriva e vuole parlare con lo sportello ok quindi sia sotto ovviamente io vi ho messo qui l'immagine di un pezzo del file excel ma è enorme è grandissimo sia le fasi di back end cioè quello che c'è dietro le quinte quindi l'interazione tra i vari uffici nostri del comune che si parlano e che devono per esempio approvare una pratica piuttosto che fare una gradatoria vengono inserite qui con l'esempio le attività online per esempio su una piattaforma sul sito del comune o offline per esempio al telefono si va a inserire chi è l'utente che interagisce con il comune per esempio un genitore oppure il bambino il minore si vanno a identificare i touch point come vi dicevo prima cioè i punti in cui c'è l'interazione tra l'utente il genitore e gli attori del servizio cioè noi siamo i funzionari pubblici che dobbiamo fare delle cose no? e quindi per esempio qui fa un esempio il motore di ricerca del comune che magari ti tira fuori delle pratiche oppure se c'è un call center o un numero di telefono che squilla e io funzionario rispondo e parlo con il genitore quindi sono i momenti in cui si interagisce insomma questo file excel va a ci dà l'opportunità è una griglia che già mappa tutte le attività che mi aiutano a descrivere un processo quindi ora sta a me seguendo proprio questo schema come vedete in altro nella prima riga sono divise per macrofasi quindi tutto quello che succede ex ante cioè prima della per esempio dell'apertura del bando per l'iscrizione agli asili quello che succede dopo durante vedete nelle colonne da L M N O quelle colonne lì quello che succede durante lo lo svolgimento l'apertura del bando o durante lo svolgimento l'erogazione del servizio per esempio riguarda l'ingresso e l'uscita dei bambini gli operatori che supportano la scuola l'erogazione del servizio mensa eccetera ci aiuta proprio a fare una descrizione e della di un servizio una volta noi l'abbiamo descritto e quindi mappato con una service blueprint ecco possiamo ovviamente avvalendoci di una società di informatica ovviamente perché il comune tendenzialmente non ha queste capacità quindi una società di informatica in house quella comunale o quelle che attraverso le gare d'appalto pubbliche quindi totale trasparenza il comune decide di di scegliere di avvalersi uno può andare a appunto far digitalizzare questi servizi che abbiamo disegnato qui vi ho riportato un ah scusate di nuovo se c'è qualcuno nel frattempo che ha delle domande su come si usano questi strumenti ben vengano secondo me entrare ancora più nel dettaglio cioè non è non è utile a questo tipo di lezione cioè se a qualcuno di voi poi serve di farle davvero queste cose non c'è cosa migliore che provarle perché comunque gli strumenti ci sono sono presenti io addirittura vi ho messo il link proprio dove cliccare per aprire questo file excel che veramente più dettaglio più di dettaglio di così è difficile insomma entrare quindi non resta altro che provare ecco se c'è veramente la volontà di disegnare mappare dei processi e poi digitalizzarli diciamo la prima fase è indubbiamente quella di disegnare la service blueprint e quindi ecco l'obiettivo di oggi cioè di fare cultura su questo settore per me oggi è raggiunto cioè più di dettaglio di così secondo me non è utile andarci ecco insomma se non ci sono domande vado mi avvio alle conclusioni ok vado avanti un caso d'uso che vi volevo portare è la piattaforma di i democracy di CDIM che è usata dalla regione Emilia Romagna che ha diciamo sviluppato questa piattaforma di coprogettazione per i cittadini quindi un sistema che supporta i cittadini a disegnare insieme dei servizi digitali o piuttosto che disegnare insieme delle forme di bilancio partecipato e via dicendo ma la cosa interessante è che appunto questa piattaforma è stata messa a terra attraverso un processo di design thinking service design con una fase molto attenta all'utilizzo di interfacce utenti quindi di progettazione e disegno del sito che favorissero quello che vi dicevo prima cioè la fruizione intuitiva da parte degli utenti tutta questa attività è stata divisa con un cronoprogramma molto ben dettagliato e ben sviluppato che ha visto nella fase iniziale lo sviluppo delle personas come delle meta persone come vi dicevo prima e poi dopo il disegno del viaggio dell'utente il disegno delle service blueprint che avete appena visto ora poi è stata fatta un'attività di onboarding dei target di utenti per testare la piattaforma quindi la prototipizzazione come vi dicevo prima e infine una una interessante attività di cruscotti con indicatori di performance di successo con delle metriche di analisi dell'utilizzo che quindi hanno portato allo sviluppo di una piattaforma proprio con disegnata con l'approccio che abbiamo descritto fino ad ora il service design design thinking e come andrei a concludere con una suggestione che diciamo una proposta che mi contraddistingo ormai da anni la sto veicolando in diversi consessi e cioè quella di andare a diciamo mappare con gli strumenti che abbiamo visto in questa in queste due in questi due incontri e ingegnerizzare con appunto i metodi di ingegnerizzazione dei processi i momenti di vita di un cittadino dalla culla alla bara cioè da quando nasce per esempio l'atto di nascita di un bambino della richiesta da parte dei genitori dell'atto di nascita fino al rinnovo della carta d'identità oppure cambio della casa e di residenza e via dicendo prendo la patente eccetera fino alla alla morte quindi al momento in cui diciamo il cittadino muore e quindi andare a mappare tutti questi momenti di vita disegnando dei flussi di processo e andando a gestire questi flussi di processo in modo quindi ingegnerizzato dalla culla alla bara in altri termini un life moment workflow management cioè la 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 gestione dei flussi di processo di tutti i momenti di della vita di un cittadino e la stessa cosa delle imprese perché ovviamente come sapete un'impresa si costituisce fino alla liquidazione e quindi anche qua andare a ingegnerizzare tutti i momenti di di vita di una azienda con questa suggestione vi vi auguro buon lavoro e rimango anche qua in in stand by se ci sono domande e risposte domande sulla su queste tematiche abbiamo abbiamo sviluppato io sono pronto a darvi delle delle risposte o comunque a rispondervi via mail se la domanda è particolarmente di dettaglio e non non vi so rispondere insomma ecco sono qua no 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 no